ed eccoci ora con mister marasco innanzitutto complimenti per una partita che si è vista è stata giocata tatticamente bene due linee compatte di quattro tutti nei 30 metri la serrese doveva difendersi ma l'ha fatto bene e poteva venire fuori anche qualcosa interessante sì non era facile tenere duro fino alla fine infatti poi siamo caduti però onore al montepone che ha fatto una buona gara ci ha messo parecchio in difficoltà noi venivamo in pratica dal questa è la quinta partita in 14 giorni una condizione fisico precaria oggi ne abbiamo risentito un po non voglio assolutamente trovare giustificazioni è giusto per trovare per dire complimenti ai ragazzi che fino alla fine hanno lottato in particolare michele zaffino o non solo ha segnato ma è andato anche a interdire su mellascio in fase di impostazione il mister gli aveva richiesto questo sforzo ulteriore sì se l'avete vista benissimo fuori anche perché rispettiamo molto il montepone conosciamo molto bene alessandro pesano siamo molti amici e so come giocano le sue squadre già lo conosciamo anche dall'anno scorso questo ci ha portato a tenere la gara fino alla fine anche se se devo essere onesta ha meritato il montepone poteva farci male anche prima degli ultimi cinque minuti e questa è una serrese che deve restare in prima categoria e probabilmente con mister marasco riuscirà nell'intento la ringrazio me lo auguro noi ci mettiamo tutto il nostro impegno durante le settimane poi speriamo di portare l'obiettivo a termine grazie la vittoria del cuore ma anche della testa perché abbiamo detto in telecronica il montepone ha sempre ragionato anche quando i tifosi chiedevano di attaccare testa bassa e lancia il resto quindi mister pisa una tre punti importanti sì hai colto proprio il segno io credo che oggi fosse una partita di testa da fare con la testa perché loro si sono difesi con ordine ci hanno messo in difficoltà al primo tiro ci hanno fatto gol la prima palla giocata in aria e quindi onestamente è difficile poi riuscire a convincere ai ragazzi che non ci deve essere fretta di arrivare nell'altra porta ma per come giochiamo noi è importante riuscire a mantenere il pallino del gioco riuscire a fraseggiare cercare di trovare gli spazi giusti e direi che i ragazzi poi secondo tempo hanno fatto esattamente quello che avevamo detto nell'intervallo e sono contento perché è una dimostrazione che probabilmente abbiamo fatto bene perché poi bisogna proprio convincerli di queste cose e quindi come dice max allegri bisogna ragionare non avere fretta max allegri a manzukic mister pisano a salvatore procopio ci salvatore è un ottimo momento di forma ha fatto anche una doppietta a mileto ma era soltanto una questione di tempo vederla queste a questi livelli a livello di prestazione è sempre stato notevolmente in condizione ha sempre fatto benissimo adesso stanno arrivando anche i gol quindi ancora meglio condizioni di marcellino che è uscito nella prima mezz'ora di gioco no un problema al ginocchio che dobbiamo valutare perché ancora non non sappiamo dovrà fare qualche esame strumentale sicuramente per capire qual è il problema comunque al momento siamo abbastanza tranquilli vediamo in settimana come come dovesse evolversi la situazione due allenatori giovani ma con tante mosse mister marasco ha bloccato mellace facendo rientrare zaffino però mister pisano ha attuato le contromosse giuste ma non lo so ognuno poi cerca di portare acqua al proprio mulino noi onestamente spesso ci ritroviamo con un uomo che marca armando ma non è un problema perché comunque tutti gli altri riescono a giocare in quel momento si liberano diverse soluzioni quindi per me è la stessa cosa anche i ragazzi lo sanno benissimo che qualsiasi cosa si trovano davanti devono avere una soluzione al problema altrimenti non si potrebbe giocare sono contentissimo della prestazione perché i ragazzi hanno dato veramente tutto e senza con nonostante il campo molto pesante credo che la qualità del gioco non sia mai scesa per 95 minuti